Grazie. Abbiamo mangiato davvero bene. Tutto molto buono. Stamattina sono andato al fiume e all'improvviso ho sentito una che cantava molto bene. Non so se abita da queste parti o... La pazza della Corte dei Miracoli. Abita da queste parti? Canta di continuo. Adesso basta parlare di Giulietta. Beh, perché? Perché non mi va! Ah, siete innamorato di lei, vero? Non è così. Potete dirmelo. È pazza, andrebbe rinchiusa. Non è pazza. È solo una ragazza che non ha avuto una vita facile. Ma è fiera come un lupo. Una famiglia di criminali. Sei cattivo come tuo padre. Servici da bere piuttosto. Che cosa dite? Come parlate di mio marito? Fuori, non mi voglio qui, fuori! Oh, cazzo, cazzo! Cazzo! Lasciate la tranquillità, c'è la sentita, si sta bevendo! Fuori, non mi voglio qui, è mio amico. Sei una strega! Va tutto bene. Non c'è bisogno di riscaldarsi. So, c'è, c'è.